Oggi vi parlerò di una trovata tecnologica, il distributore automatico. Nelle aziende, negli ospedali, nelle scuole, nelle stazioni, le pause per uno snack o per un caffè si sono tecnologizzate. È sparito il caro vecchio bar per far posto al distributore automatico. Questi soliti robottoni hanno una personalità, sono impidi. Il peggiore di tutti però è il bastardone, che ha una caratteristica. Non c'è nessun nesso tra quello che ti promettono i tasti e tra quello che ti eroga. Per esempio, sulla tastiera c'è scritto caffè dolce, macchiato, amaro, eccetera. Ma se ha deciso che quel giorno servirà a te freddo, non c'è verso di fargli cambiare idea. Per esempio, a volte, versa la bevanda prima di far scendere il bicchierino di carta. E se cercate di fregarlo mettendo voi in anticipo il bicchierino, lui è capace di sparare tutta una cioccolata così bollente da sciogliere la plastica. E verserà ben 12 cucchiaini di zucchero, facendola così diventare un'originale minestrina di plastica. Ma attenzione ai suoi trucchi più subdoli. Allora, può darsi anche che il bicchierino scenda regolarmente, ma che verserà il caffè per 15 minuti di seguito e non c'è nessuna forza al mondo che possa fermarlo. Invece, se volete un caffè dolce, state sicuri che non ve lo zucchererà mai. Magari farà scendere il bicchierino e il caffè. Ma dopo aver aspettato lì vicino 10 minuti, sarete costretti ad andare a cercare una bustina di zucchero. Però è in quel momento che alle vostre spalle sentirete che il bastardone farà scendere un chilo di zucchero a terra. Per favore, almeno nelle scuole, restituitici i nostri bar. Il mio brano si chiama Distributore Automatico ed è scritto da Stefano Benni. Perché è un stile comico e a me piace interpretare queste cose. Mi chiamo Lara Pietropaolo, ho 11 anni e frequento la scuola Carlo Poerio. Sono nella classe seconda media. I miei hobby preferiti sono fare recitazione e faccio anche canto. Poi mi piace anche fare danza, infatti pratico anche quella. Mi piace fare l'attrice perché è una cosa per me molto divertente. Mi piace tutto, mi piace recitare, mi piace tutto. Io sono altra un metro e trentanove. Grazie. 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 Grazie.